L'anno 830.275 del Regno di Giove, il Collegio delle Muse diede fuori in istampa e fece appiccicare nei luoghi pubblici della città e dei sobborghi dell'Ipernefelo diverse cedole, nelle quali invitava tutti gli dai maggiori e minori e gli altri abitanti della detta città che recentemente o in antico avessero fatto qualche lodevole invenzione a proporla o effettualmente o in figura o per iscritto ad alcuni giudici deputati da esso collegio, escusandosi che per la sua nota povertà non si poteva dimostrare così liberale come avrebbe voluto, prometteva in premio a quello il cui ritrovamento fosse giudicato più bello e più fruttuoso, una corona di lauro con privilegio di poterla portare in capo il dì e la notte, privatamente e pubblicamente, in città e fuori, e poter essere dipinto, scolpito, inciso, gittato, figurato in qualunque modo e materia col segno di quella corona dintorno al capo. Concorsero a questo premio non pochi dei celesti per passatempo, cosa non meno necessaria agli abitatori di Pernefelo che a quelli di altre città, senza alcun desiderio di quella corona, la quale in sé non valeva il pregio di una berretta di stoppa, e in quanto alla gloria, se gli uomini, da poi che sono fatti filosofi, la disprezzano, si può congetturare che stima ne facciano gli dèi, tanto più sapienti degli uomini, anzi, soli sapienti, secondo Pitagora e Platone. Pertanto, con esempio unico e fino allora inaudito, in simili casi di ricompense proposte ai più meritevoli, fu aggiudicato questo premio senza intervento di sollecitazioni né di favori né di promesse occulte né di artifici. E tre furono gli anteposti, cioè Bacco per l'invenzione del vino, Minerva per quella dell'olio, necessario alle unzioni, delle quali gli dèi fanno quotidianamente uso dopo il bagno, e Vulcano per aver trovato una pentola di rame, detta economica, che serve a cuocere che che sia con piccolo fuoco e speditamente. Così, dovendosi fare il premio in tre parti, restava a ciascuno un ramuscello di lauro, ma tutti e tre ricusarono così la parte come il tutto, perché Vulcano allegò che, stando il più del tempo al fuoco della fucina con gran fatica e sudore, vi sarebbe importunissimo quell'ingombro alla fronte, oltre che lo porterebbe in pericolo di essere abbrustolato o riarso, se per avventura qualche scintilla, appigliandosi a quelle fronde secche, vi mettesse il fuoco. Minerva disse che, avendo a sostenere in sul capo un elmo bastante, come scrive Omero, a coprirsene tutti insieme gli eserciti di cento città, non le conveniva aumentarsi questo peso in alcun modo. Bacco non volle mutare la sua mitra e la sua corona di pampini con quella di Lauro, men che l'avrebbe accettata volentieri se gli fosse stato lecito di metterla per insegna fuori della sua taverna. Ma le muse non consentirono di dargliela per questo effetto, di modo che ella si rimase nel comune erario. Ni uno dei competitori di questo premio ebbe invidia ai tre dei che l'avevano conseguito e rifiutato. Né si dolse dei giudici, né biasimò la sentenza. Salvo solamente uno, che fu Prometeo, venuto a parte del concorso col mandarvi il modello di terra che aveva fatto e adoperato a formare i primi uomini, aggiunta via una scrittura che dichiarava le qualità e gli uffici del genere umano stato trovato da esso. Muove non poca meraviglia il rincrescimento dimostrato da Prometeo in caso tale, che da tutti gli altri si vinti come vincitori era preso in gioco. Perciò investigandone la cagione si è conosciuto che quegli desiderava efficacemente non già l'onore, ma bene il privilegio che gli sarebbe venuto con la vittoria. Alcuni pensavano che intendesse prevalersi del lauro per difesa del capo contro alle tempeste. Secondo si narra di Tiberio, che sempre che udiva tonare si poneva la corona, stimandosi che l'alloro non sia percosso dai fulmini, ma nella città di Ipernefalo non cade fulmine e non tuona. Altri più probabilmente affermano che Prometeo, per difetto degli anni, comincia a gittare i capelli, la quale sventura sopportando, come accade a molti, di malissima voglia, e non avendo letto le lodi della calvizia scritte da Sinesio, o non essendone persuaso, che è più credibile, voleva sotto il diadema nascondere, come Cesare dittatore, la nudità del capo. Ma per tornare al fatto, un giorno tra gli altri, ragionando Prometeo con Momo, si querelava aspramente che il vino, l'olio e le pentole fossero stati anteposti al genere umano, il quale diceva essere la migliore opera degli immortali che apparisse nel mondo. E parendogli non persuaderlo bastantemente a Momo, il quale adduceva non so che ragioni in contrario, gli propose di scendere tutti e due congiuntamente verso la terra, e posarsi a caso nel primo luogo che in ciascuna delle cinque parti di quella scoprissero abitato dagli uomini. Fatta prima reciprocamente questa scommessa, se in tutti i cinque i luoghi, o nei più di loro, troverebbero o no manifesti argomenti che l'uomo sia la più perfetta creatura dell'universo. Il che, accettato da Momo, e convenuti del prezzo della scommessa, incominciarono senza indugio a scendere verso la terra, indirizzandosi primieramente al nuovo mondo, come quello che per nome stesso, e per non avervi posto piede in sino allora nieno degli immortali, stimolava maggiormente la curiosità. Fermarono il volo nel paese di Popayan, dal lato settentrionale, poco lungi dal fiume cauca, in un luogo dove apparivano molti segni di abitazione umana, vestigi di cultura per la campagna, parecchi sentieri, ancorché tronchi in molti luoghi e nella maggior parte ingombri, alberi tagliati e distesi, e particolarmente alcune che parevano sepoltura e qualche ossa d'uomini di tratto in tratto. Ma non perciò poterono i due celesti, porzendo gli orecchi e distendendo la vista per ogni intorno, udire una voce né scoprire un'ombra d'uomo vivo. Andarono parte camminando, parte volando, per il spazio di molte miglia, passando monti e fiumi, e trovando dappertutto i medesimi segni e la medesima solitudine. Come sono ora deserti questi paesi, diceva Momo a Prometeo, che mostrano pure evidentemente di essere stati abitati. Prometeo ricordava le inondazioni del mare, i tremuoti, i temporali, le piogge strabocchevoli, che sapeva essere ordinarie nelle regioni calde. E veramente in quel medesimo tempo udivano, da tutte le boscaglie vicine, i rami degli alberi che agitati dall'aria stillavano continuamente acqua. Senonché Momo non sapeva comprendere come potesse quella parte essere sottoposta alle inondazioni del mare, così lontano di là che non appariva ad alcun lato. E meno intendeva per qual destino e tremuoti, i temporali e le piogge, avessero avuto a disfare tutti gli uomini del paese, perdonando agli sciaguari, alle scimmie, a formichieri, a cerigoni, alle aquile, a papagalli e a cento altre qualità di animali terrestri e volatili che andavano per quei dintorni. Infine, scendendo a una valla immensa, scoprirono, come a dire, un piccolo mucchietto di case o capanne di legno, coperte da foglie di palma e circondata ognuna da un chiuso, a maniera di steccato. Dinanzi a una delle quali stavano molte persone, parte in piedi, parte sedute, dintorno a un vaso di terra posto a un gran fuoco. Si accostarono i due celesti, presa forma umana, e Prometeo, salutati tutti cortesemente, volgendosi a uno che accennava di essere il principale, interrogollo. Che si fa? Selvaggio, si mangia, come vedi. Prometeo, che buone vivande avete? Selvaggio, questo poco di carne. Prometeo, carne domestica o selvatica? Selvaggio, domestica, anzi, del mio figliuolo. Prometeo, hai tu per figliuolo un vitello, come ebbe pacife? Selvaggio, non un vitello, ma un uomo, come ebbero tutti gli altri. Prometeo, tu dici da senno, mangi tu la tua carne propria? Selvaggio, la mia propria no, ma ben quella di costui, che per questo solo uso io l'ho messo al mondo e preso cura di nutrirlo. Prometeo, per uso di mangiartelo? Selvaggio, che meraviglia, e la madre ancora, che già non debba essere buona da fare altri figliuoli, penso di mangiarla presto. Momo, come si mangia la gallina, dopo mangiate le uova? Selvaggio, e le altre donne che io tengo, come siano fatte inutili a partorire, le mangerò similmente. E questi schiavi che vedete, forse che li terrai vivi, se non fosse per avere di quando in quando dei loro figliuoli e mangiarli? Ma invecchiati che saranno? Io me li mangerò anche loro ad uno se io campo. Prometeo, dimmi, cotesti schiavi sono della tua nazione medesima o di qualche altra? Selvaggio, ad un'altra? Prometeo, molto lontana di qua? Selvaggio, lontanissima, tanto che tra le loro case e le nostre ci correva un rigagnolo. E additando un collicello soggiunse, ecco là il sito dove ella era, ma i nostri l'hanno distrutta. In questo parve a Prometeo che non so quanti di coloro lo stessero mirando con una cotal guardatura amorevole come quella che fa il gatto al topo, sicché per non essere mangiato dalle sue proprie fatture si levò subito a volo e seco similmente Momo. E fu tanto il timore che ebbero l'uno e l'altro che nel partirsi corruppero i cibi dei barbari con quella sorta di immondizia che le arpie sgorgarono per invidia sulle mense troiane. Ma coloro, più famelici e meno schivi dei compagni di Enea, seguitarono il loro pasto e Prometeo, malissimo soddisfatto del mondo almovo, si volse incotantenente al più vecchio, voglio dire all'Asia, e trascorso quasi in un subito, l'intervallo che è tra le nuove e le antiche Indie, scesero ambedue presso ad Agra, in un campo pieno di infinito popolo, adonato intorno ad una fossa colma di legne, sull'orlo della quale, da un lato, si vedevano alcuni contorchi accesi in procinto di porle in fuoco, e dall'altro lato, sopra un palco, una donna giovane, coperta di vesti sontuosissime e di ogni qualità di ornamenti barbarici, la quale, danzando e vociferando, faceva segno di grandissima allegrezza. Prometeo, vedendo questo, immaginava secolo stesso una nuova Lucrezia, o nuova Virginia, o qualche emulatrice delle figliuole di Eretteo, delle Ifigenie, dei Codri, dei Menecei, dei Cursi e dei Deci, che, seguitando la fede di qualche oracolo, si immolasse volontariamente per la sua patria. Intennendo poi che la cagione del sacrificio della donna era la morte del marito, pensò che quella, poco dissimile dal ceste, volesse col prezzo di sé medesima ricomperare lo spirito di colui, ma saputo che ella non si induceva ad abbrucciarsi, se non perché questo si usava di fare dalle donne vedove della sua setta, e che aveva sempre portato odio al marito, e che era ubriaca, e che il morto, in cambio di risuscitare, aveva ad essere arso nel medesimo fuoco, voltato subito il dosso a quello spettacolo, prese la via dell'Europa, dove, intanto che andavano, ebbe col suo compagno a questo colloquio. Momo, avresti tu pensato, quando rubavi, con tuo grandissimo pericolo, il fuoco dal cielo, per comunicarlo agli uomini, che questi se ne prevarrebbero, quali per cuocersi l'un l'altro nelle pignatte, quali per abbruciarsi spontaneamente? Prometeo, no per certo, ma considera, caro Momo, che quelli che fino ad ora abbiamo veduto sono barbari, e dai barbari non si deve far giudizio della natura degli uomini, ma bene dagli inciviliti, ai quali andiamo al presente, e ho fermo opinione che tra loro vedremo e udremo cose e parole che ti parranno degne, non solamente di lode, ma di stupore. Momo, io per me non veggo, se gli uomini sono il più perfetto genere dell'universo, come faccia di bisogno che siano inciviliti, perché non si abbrucino da se stessi, e non mangino i figlioli propri, quando che gli altri animali sono tutti barbari, e ciò nonostante nessuno si abbrucia a bello studio, purché la fenice che non si trova. Rarissimi si mangiano alcun loro simile, e molto più rari si cibano dei loro figlioli, per qualche accidente insolito, e per non averli generati a quell'uso. Avverti e zian Dio, che delle cinque parti del mondo, una sola, ne tutta intera, e questa non paragonabile per grandezza aver una delle altre quattro, è dotata della civiltà che tu lodi, aggiunte alcune piccole porzioncelle di un'altra parte del mondo. E già tu medesimo, non vorrei dire che questa civiltà sia compiuta in modo che oggi degli uomini di Parigi o di Filadelfia abbiano generalmente tutta la perfezione che può convenire alla loro specie. Ora, per condursi al presente stato di civiltà non ancora perfetta, quanto tempo hanno dovuto penare questi tali popoli? Tanti anni quanti si possono numerare dall'origine dell'uomo insino ai tempi prossimi. E quasi tutte le invenzioni che erano, o di maggiore necessità, o di maggior profitto al conseguimento dello stato civile, hanno avuto origine non da ragione, ma da casi fortuiti, di modo che la civiltà umana è opera della sorte più che della natura. E dove questi tali casi non sono occorsi, vediamo che i popoli sono ancora barbari, con tutto che abbiano altrettanta età quanto i popoli civili. Dico io dunque, se l'uomo barbaro mostra di essere inferiore per molti capi a qualunque altro animale, se la civiltà, che è l'opposto della barbarie, non è posseduta neanche oggi se non da una piccola parte del genere umano, se oltre di ciò questa parte non è potuta altrimenti per venire al presente stato civile, se non dopo una quantità innumerabile di secoli, e per beneficio massimalmente del caso, piuttosto che di alcun'altra cagione. All'ultimo, se detto stato civile non è per anche perfetto, considera un poco se forse la tua sentenza circa il genere umano non fosse più vera acconciandola in questa forma, cioè dicendo che esso è veramente sommo tra i generi, come tu pensi, ma sommo nell'imperfezione piuttosto che nella perfezione, quantunque i uomini nel parlare e nel giudicare scambino continuamente l'una con l'altra, argomentando da certi cotali presupposti che si hanno fatto essi e tengono lì per verità palpabili. Certo che gli altri generi di creatura fin dal principio furono perfettissimi ciascheduno in se stesso, e quando il zian Dio non fosse chiaro che l'uomo barbaro, considerato in rispetto agli altri animali, è meno buono di tutti, io non mi persuado che l'essere naturalmente imperfettissimo nel proprio genere, come pare che sia l'uomo, sabbia a tenere in conto di perfezione maggiore di tutte le altre. Aggiunge che la civiltà umana, così difficile da ottenere e forse impossibile da ridurre a compimento, non è anche stabile, in modo che ella non possa cadere, come in effetto si trova a essere avvenuto più volte, e in diversi popoli che ne avevano acquistato una buona parte. Insomma, io conchiudo che se tuo fratello Epimeteo recava ai giudici il modello che debba aver adoperato quando formò il primo asino o la prima rana, forse ne riportava il premio che tu non hai conseguito, pure a ogni modo io ti concederò volentieri che l'uomo sia perfettissimo se tu ti risolvi a dire che la sua perfezione si rassomigli a quella che si attribuiva da Plotino al mondo, il quale, diceva Plotino, è ottimo e perfetto assolutamente, ma perché il mondo sia perfetto conviene che egli abbia in sé, tra le altre cose, anche tutti i mali possibili. Però, infatti, si trova in lui tanto male quanto vi può capire, e in questo rispetto forse io concederei similmente al Leibnizio che il mondo presente fosse il migliore di tutti i mondi possibili. Non si dubita che Prometeo non avesse a ordire una risposta in forma distinta, precisa e dialettica a tutte queste ragioni, ma è parimenti certo che non la diede, perché in questo medesimo punto si trovarono sopra la città di Londra, dove, scesi e veduto gran moltitudine di gente a correre alla porta di una casa privata, messisi tra la folla, entrarono nella casa, e trovarono sopra un letto un uomo disteso supino, che avea nella ritta una pistola, ferito nel petto e morto. E accanto a lui giacere due fanciullini, medesimamente morti. Erano nella stanza parecchie persone della casa e alcuni giudici, i quali le interrogavano, mentre che un ufficiale scriveva Prometeo, chi sono questi sciagurati? Un famiglio, il mio padrone e i figliuoli. Prometeo, chi li ha uccisi? Famiglio, il padrone, tutti e tre. Prometeo, tu vuoi dire i figliuoli e se stesso? Famiglio, appunto. Prometeo, oh, che è maico testo? Qualche grandissima sventura gli diceva essere accaduta? Famiglio, nessuna che io sappia. Prometeo, ma forse era povero, o disprezzato da tutti, o sfortunato in amore o in corte? Famiglio, anzi, ricchissimo, e credo che tutti lo stimassero. Di amore non se ne curava, e in corte aveva molto favore. Prometeo, dunque, com'è caduto in questa disperazione? Famiglio, per tedio della vita, secondo chi ha lasciato scritto. Prometeo, e questi giudici, che fanno? Famiglio, si informano se il padrone era impazzito o no, che in caso non fosse impazzito. La sua roba ricade al pubblico per legge, e in verità non si potrà fare che non ricada. Prometeo, ma dimmi, non aveva nessun amico o parente a cui potesse raccomandare questi fanciullini in cambio ad ammazzarli? Famiglio, sì, aveva, e tra gli altri uno che gli era molto intrinseco, al quale era comandato il suo cane. Momo stava per congratularsi con Prometeo sopra i buoni effetti della civiltà, e sopra la contentezza che appariva nel risultasse alla nostra vita, e voleva anche rammentargli che nessun altro animale fuori dell'uomo si uccide volontariamente esso medesimo, né spegne per disperazione della vita ai figlioli. Ma Prometeo lo prevenne, e senza curarsi di vedere le due parti del mondo che rimanevano, gli pagò la scommessa.